Tre capolavori del pittore fiorentino del Cinquecento, Fra Bartolomeo, finalmente riuniti nel Museo Nazionale di Villa Guinigi, al termine del restauro e realizzato grazie anche al contributo della Galleria degli Uffizi, che ha esposto la palla di Murano nell'ambito della mostra dal titolo Puro, Semplice e Naturale. L'opera è tornata ad affiancare l'altra grande tela, rappresentante la Madonna della Misericordia. I due capolavori, tra i più significativi della pittura dell'artista, sono stati restaurati tra il 2006 e il 2014 ed erano custoditi ed esposti nel Museo di Villa Guinigi sin dalla sua riapertura nel 1968. Al museo è stata anche affidata in deposito temporaneo la preziosa tavola dello stesso maestro, proveniente dalla cappella del santuario del Duomo Cittadino. Il Museo di Villa Guinigi ha i due più bei dipinti di Fra Bartolomeo, che erano stati realizzati da Fra Bartolomeo, l'uno proprio per la chiesa di San Romano qui a Lucca, l'altro acquisito dal convento di San Romano dopo che Fra Bartolomeo aveva avuto una commissione invece da un convento domenicano dell'isola di Murano a Venezia. I restauri sono andati avanti per molti anni per motivi anche di ordine finanziario e siamo arrivati a conclusione grazie anche al prestito che ci è stato chiesto della Pala di Murano, che è questa appunto alle mie spalle, e che ci ha consentito di completare il restauro con lo sponsor della Galleria degli Uffizi, che appunto ha realizzato una mostra puro, semplice e naturale per la quale ha chiesto il prestito di questo dipinto.